Salve, dove sono? Un paradiso, e tu chi sei? Io sono El, non so cosa stesse succedendo, ero lì a dare fuoco a delle birce con delle TNT e pum, invece di ritrovarmi nel mio letto, come sempre mi sono ritrovato qui. Ah, ti ho trovato, sei El Eternal Love, detto Xerville, qui leggo che hai bruciato un sacco di birce nella tua vita, hai anche altri peccati di cui mi devi parlare? No, vabbè, ma le birce fanno schifo, cioè nel senso, è normale chi abbia cercato di distruggere, no? Perché qui io leggo che hai anche perseguitato la povera Chiri ogni volta che si occupava delle pecore come me, e che ne hai ammazzate tante in vita tua. Eh, ho capito, vabbè, ma tanto non è che servisse, o lei esagerava, non è che... E poi devo dirti un'altra cosa, non c'è il tuo nome nella lista di persone destinate al paradiso, questo significa che tu devi andare all'inferno. NOOOOO! Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft, ed eccoci in When Pigs Take Over Death. Questa volta i maiali riusciranno addirittura a prendere il controllo della morte, scopriamolo subito! Ciao, giocatore! Grazie per aver scaricato la mia mappa! Questa è il sequel di When Pigs Take Over! Spero che ti piacerà! Ciao! Ma grazie mille, un autore di mappa che addirittura parla con i giocatori! Cosa per è successo? Che siamo morti! No, è vero! When Pigs Take Over si è concluso con la nostra morte quando eravamo l'assassino 22, ma quindi... E quindi siamo in paradiso? Sono morto! E la porta del paradiso è governata da una pecora! Ma guarda! E sta pure leggendo! No, è stupenda con l'aureola! Guarda lì, le giro e la pecora complicata dentro è epica! Nooo, siamo morti! Beh, c'è da dire che nonostante fossimo degli assassini siamo finiti in paradiso e non nell'inferno, è già qualcosa! Io so il motivo, mica hai ucciso delle pecore, scusa! È vero, abbiamo sterminato un sacco di galline! Se non avete visto i precedenti episodi, date un'occhiata in descrizione, trovate la playlist completa e anche il link a G2A così trovate anche dei giochi a sconto! Salve pecora! Mi inquieta un po' lei, comunque... Che legge? Chi sei? Sono Thomas, il guardiano del paradiso! Io sono... Sì, lo so chi sei, sei un soldato maiale! Ma dove siamo? Ma che cosa devo fare? Sono morto, ho un sacco di domande! Mi dispiace dirti che effettivamente sei morto e allora perché sono qui il paradiso ha bisogno del tuo aiuto! Perché siamo in guerra con le galline morte malvagie! Ops! Se ci aiuti sarai conosciuto come il più grande dei guerrieri e come l'angelo che ha salvato il paradiso! Ah! Che cosa ti conviene aiutarli, sai? No, è bellissima! Come cosa? Se gli dici di no, che succede? Diggi un po' di no! Come gli dico? Sei sicura? Sì, sei sicura! Mi mandano all'inferno magari! Ah, ok! Gli dico di no! No! Errone! Non puoi in nessun modo fare almeno di aiutarli! Grazie! Vai attraverso quella porta santa e cammina verso quel fascio di luce! Dovrai teletrasportarti fino all'ufficio del re del paradiso! Fantastico! Oh mamma! No! Ah! Che carino! Ma no! Ma che cosa sei? Ma perché? Guardate sti testificate pecora! Sti pecorificate! Ciao! Sei soldato maiale penso! Sì, sono io Thomas mi ha mandato qui perché avete dei problemi con delle galline morte e malvagie che probabilmente io ho spedito fin qui! Prima che tu possa combattere contro di loro tu hai bisogno di recuperare l'el chicken che non sono io in versione gallina ma in realtà è una specie di pollo infernale! È un antico artefatto che ti permette di andare all'inferno dove è situato il dungeon ma solamente un guerriero può sconfiggere il dungeon! Vai preparati e torna indietro poi ti tipizzeremo al dungeon! Ok! Non potete tipizzarti subito? No eh! Eh no devo essere pronto! Posso rubare la testa al testifico? Guardate questi! Sono bellissimi! Sono uno splendore veramente! E sta corona poi gli dona un'aula di fascino che solo le pecore hanno! Verso l'armeria oppure verso da nessuna parte! Wow! Eccomi qua! Guarda! Super pecoroso! Guardate come divento tutto lanoso e bella! Bella un po'? Per entrare nel dungeon avrai bisogno di trovare un uovo e romperlo e a quel punto si aprirà una porta segreta per il dungeon! Quando hai trovato la gallina di semplicemente riportami a casa e sarai teletrasportato! Ottimo! Guardate sta telepatia direttamente con il paradiso! Mica male eh! Ste pecore sono un passo avanti a tutti eh! Questo posto mi ricorda tantissimo la stessa identica zona in cui abbiamo trovato l'entrata segreta della base l'altra volta! Eccolo qua! Ha ha! Puncialo! Puncialo! Calpesto! Puncia! Puncia più forte! Uh! Che è successo? Dove è andato? È sparito! Forse si sarà aperto un buco qui in mezzo esattamente come l'altra volta! La butto lì! Esattamente! È la stessa base della scorsa volta allora! È la base dell'inferno questa? È cambiato! L'inizio è simile ma questo non è come l'altra volta! Trova le tre leve! Fortunatamente le tre fiere non ci sono e quindi non aveva bisogno di nessun Virgilio! Guardate che bella la porta no? L'ha fatto troppo bene con questi maniglioni! Non avevo mai visto delle maniglie fatte così! È vero con le leve! Ma sono veramente epiche! Dove in poi lo userò sto design in tutti i portoni giganti! E poi in altrimenti ci vuole Dante che declami quando entra nell'inferno! Cioè con la scritta ci vorrebbe! Se non è terna è terna duro! Lasciate ogni speranza voi che entrate! Beh la prima leva è facile! Tranquilla! La prima sì! Se vi apri la porta... Oh no! No no no! Ciao! Ciao! Che cavolo! Vecchi zombie ciechi! Infatti non mi vedono! Si sono vestiti come gli aterna lava! È vero! È vero! Non andiamo sempre in giro vestiti così! E infatti guarda sono lì uno vicino all'altro e uno se ne va giustamente alla fine! Cari amici! Questa è una nuova puntata di Minecraft! Ho ucciso la versione Teddy zombie! Ma dai! Posso tenere me stesso vivo? Un giorno quando morirò sarò così! Però no! Non mi vestirei mai quella casacchina rosa! Ci vesto io tantissimo! Maai! Via! Cari amici! Ancora! Eeeh... Non devo sbagliare qua! Perché hanno messo il percù? Percù! Ok ci sono! A me non l'elita se la potevano dare però! Eeeh... Solta ci siamo! E abbiamo anche la seconda leva! Che ha fatto anche bip 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 bip! E quindi sono contento! E ora cadi! E muori! Da che lato devo andare adesso? Di qua abbiamo l'ultima leva! E poi! Finalmente! Oh oh! Per sfortuna! Potremmo entrare verso... Un altro parkour? Eh! Qualcosa vi dice di sì! Eh ma 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 veramente? Cioè! Cioè da morti anche se vai in paradiso devi fare parkour! Non si salva mai dal parkour! No veramente! Veramente! Credo fossero punizione per l'inferno ma vedo che non ci si salva! L'ho aperte tutte e tre! Si sarà aperta! La porta! Ah no! Ah no! Ah no! Guarda c'è ogni speranza però è l'unica soluzione! Non è che devo ritirare quella leva no? Perché la prima volta che l'ho tirata non mi ha fatto... Prova! 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 L'ha fatto! E si è sentita! Una porta aprirsi! Non ci voglio andare all'inferno! Dai! Una bella passeggiatina con Caronte! Devo lasciare ogni speranza vero? Ogni! Aiuto! C'è qualcosa! Vedo! Intravedo qualcosa! Vuolsi così con la dove si porta ciò che si vuole più non dimandare! Oh mamma mia! Ma è un pollo rosa! No è rosa! È bellissimo rosa! Perché tutti i polli non sono già rosa di default? L'ho preso! Ho la gallina! È una gallina rosa! È finita! Ma no! To be continued! Anche questa volta è a puntate! Complimenti a Craft Boy per aver creato la prima parte del sequel di UMPX Takeover! Beh! Complimenti davvero! Molto simpatico! I modelli personalizzati come la pecora sulle giro è stupenda! E anche la gallina rosa! È carina! Ma che cos'è una specie di guanto? Non lo so che cosa sia ma me la sto portando così! Sì inquietante eh! Ok! È stupido! Sono molto contento che la serie sia continuata nonostante il creatore non sia riuscito ad avere il tempo di portarla avanti così perlomeno potremo vedere quale saranno le grandi avventure nell'inferno che dovremo affrontare presto! Noi speriamo tantissimo che questa mappa vi sia piaciuta! Fatecelo sapere nei commenti se volete comunque che continuiamo con la seconda parte una volta che sarà uscita la nostra tomba! Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima con Yet in Love! Ciao! Ciao! Ciao!